Un po' abbandonato, eh? Attivo! Io ho cercato di procurarmi l'ubiquità, ma non ce l'ho fatta. Purtroppo sono l'innominato in questo momento. Però, 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 ci sarò. Ah, io lo so anche io. Eh, lo so anch'io. Perché quell'altro, allora torno, faccio lui, capito? E per un giorno, anzi per tre giorni, ritorna a essere il conte fetente, capito? Detto anche fetonte. Esatto. E allora, ora ci spostiamo su quello che ci sta accompagnando e ci ha accompagnato. Due anni. Due anni. Trecento repliche. Trecento anni. So che avete, so che avete brindato. Avremo due anni.